È una soddisfazione grande e un risultato che dà lustro all'intera provincia di Foggia sportiva. Cosa si prova in questi momenti e soprattutto cosa hai provato nel momento in cui hai capito di essere diventato campione del mondo? È indescrivibile perché al momento semmai non capisci quello che hai realizzato, però è una cosa proprio bellissima, non ci sono parole per descrivere una cosa del genere. Tu hai 20 anni e hai cominciato a fare questo tipo di sport all'età di 14 anni, se non erro una passione che ti ha trasmesso tuo nonno? Giusto, giusto sì. Col tempo ho praticato molti sport ma non vedevo quella passione. Appena ho iniziato a fare questo sport ho capito che era quello che faceva per me, grazie appunto a mio nonno. Adesso però non ci si ferma, no? Quali sono i progetti per il futuro? Ci sono molti progetti, questo è solo l'inizio, ora ho iniziato a mettere man mano vari passi, vari tasselli nella mia carriera. Quanto è importante lo sport per un giovane di questo territorio? È molto importante perché ti dà molta fiducia in te stesso e ti toglie quelle insicurezze che semmai avevi prima e quindi capisci che puoi realizzare cose che non credivi da piccolo. Complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie.